Chi conosce qualche giocatore famoso di basket? Io! Michael Jordan! Non mi deve ricopiare però... Oggi il V è la nuova stagione del mini basket casino. Sì, questa è oggi la prima lezione in assoluto. Quest'anno abbiamo deciso di fare più gruppi per dare un servizio migliore, nel senso invece di fare gruppi troppo numerosi, avendo la possibilità di questo campo che siamo riusciti a realizzare in pochissime settimane, un vero miracolo direi, abbiamo deciso di suddividere i bambini in più gruppi in modo che possano divertirsi sicuramente di più perché non saranno mai fermi per l'ora, anzi noi spesso facciamo anche un'ora e mezza di direzione, quindi credo che si divertiranno ancora di più quest'anno rispetto all'anno scorso. Perché hai scelto di giocare a mini basket? Perché mi piace. Mi piacerebbe giocare in una squadra importante di basket? Sì! E le fidanzate vi vedono giocare? No! 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 ! No! No! Sintonizzati su Tremenda il diario a tutta musica Con la partecipazione di RTL 102.5, Dear Jack, Bianca Azei e MusicFirst.it. Acquista Tremenda, il diario che sostiene la fondazione Exodus di Don Antonio Mazzi. Il diario Tremenda è disponibile nelle principali catene commerciali e librerie.